A Biella, una delle più grandi fabbriche italiane di tessuti, è stata visitata dal sottosegretario onorevole Larussa, che era accompagnato dal prefetto di Vercelli. Ha fatto gli onori di casa il cavaliere del lavoro, Ettore Fila. Gli ospiti hanno seguito con vivo interesse le varie fasi della lavorazione, soffermandosi a lungo negli imponenti reparti. Dai 375 telai di questa fabbrica escono i più diversi tessuti in grado di soddisfare ogni esigenza. Il sottosegretario Larussa si è intrattenuto in cordiale colloquio con operai, tecnici e dirigenti, interessandosi al loro lavoro ed esprimendo il suo compiacimento per l'apporto che questa industria reca all'economia italiana. Una forte aliquota di questi tessuti è destinata all'esportazione e raggiunge i più lontani angoli del mondo. Con complessi come questi, l'industria tessile italiana può affrontare serenamente l'avvento del mercato comune europeo, con la certezza che il nostro prodotto ancora una volta sarà riconosciuto tra i migliori del mondo. Affollata come sempre la pista di pattinaggio di Davos in Svizzera, vi sono i soliti miliardari, le solite cacciatrici di miliardari, i soliti cacciatori di cacciatrici di miliardari. Ma c'è qualcosa di nuovo oggi a Davos, anzi qualcuno. È Aristotele, uno scimpanzé di vastissima cultura che, reduce da Cambridge, dove ha conseguito il baccellierato in storia precolombiana, è venuto a distendere i nervi e a ritemprare le forze con un po' di salutare sport. Da severo studioso schivo della popolarità, Aristotele era piuttosto seccato dell'indiscreta curiosità e diciamolo pure invadenza, di cui era fatto oggetto da parte di coloro che egli chiama Sti Quattro Macachi. Questa è l'epoca delle scimmie, fanno di tutto, pattinano, volano nello spazio, partecipano a mostre d'arte, si affermano a Hollywood. Una sola cosa le scimmie non hanno mai fatto, gli ospiti d'onore al musichiere, sono animali dignitosi. Anche Milano, città che faticosamente nei secoli si era andata costruendo una fama di decoro e serietà, non ha saputo resistere alla tentazione di mettere su un festival di musica leggera. Increscioso intermezzo l'esibizione di un insopportabile bambino prodigio. Esclusa dal festival di Sanremo, Anna D'Amico è stata accolta a braccia aperte dagli organizzatori milanesi. Ha cantato dovunque. Un momento, dovunque è il titolo della canzone, non è che Anna vada gorgheggiando dappertutto. Tutti sull'attenti, ecco il colonnello. Gene colonnello, cioè, che ha contribuito al trionfo della canzone vincitrice, Lasciate stare la luna. Un applauso fragoroso ha colto questo cantante. Amara delusione quando si è visto e si è sentito che non si trattava di Arigliano, ma di tale Gino Corcelli. L'audiovilla ha cesellato sempre più solo. L'urlatrice Paola ha concluso il festival che, tirate le somme, non è stato peggiore di quello di Sanremo. In complesso le canzoni si sono mantenute su un decoroso piano di imbecillità.